in questa lezione parleremo delle cose che ci aiutano a casa parleremo di elettrodomestici ce ne sono dei vari tipi quelli che ci aiutano a cucinare a pulire la casa e anche a sentirci comodi parlando di elettrodomestici per ognuno di loro troveremo un verbo che descrive l'azione da esso compiuta per esempio il verbo che usiamo per il ferro da stire e stirare questa è una cucina può essere la cucina elettrica o la cucina a gas e questo invece il fornello sempre elettrico o a gas i verbi adatti alla cucina e al fornello sono cucinare cuocere bollire e anche friggere sopra di una cucina di solito mettono una cappa per aspirare i vari profumi che si producono durante la cottura e spesso dentro la cucina o anche a parte c'è il forno che serve per infornare qualcosa per esempio un pollo arrosto questo è il forno a microonde che serve per scaldare i piatti questo invece è il tostapane con il tostapane possiamo tostare il pane farlo diventare più croccante utilizziamo il trittacarne quando dobbiamo trittare la carne per fare per esempio una bella macarone pavlotsky e invece se dobbiamo lavare i piatti possiamo farlo con le mani ma meglio utilizzare una lavastoviglia invece per sbattere due uova ci serve uno sbattitore elettrico e un altro oggetto utile in cucina è il frullatore che serve per frullare varie cose quando abbiamo voglia di una pizza dobbiamo ottenere un impasto e quello che ci aiuterà a farlo è un'impastatrice planetaria che serve per impastare e finalmente per mantenere la freschezza dei nostri cibi usiamo il frigorifero oppure il frigo che serve per conservare il cibo al fresco e se dobbiamo proprio congelare il cibo usiamo il congelatore quando l'abbigliamento è sporco dobbiamo lavarlo in una lavatrice e dopo averlo lavato stirarlo con il ferro da stiro se dobbiamo pulire la casa possiamo usare un elettrodomestico che si chiama l'aspirapolvere e per essere sempre belli dopo la doccia dobbiamo asciugare i capelli e dobbiamo farlo con il phon oppure con un asciugacapelli che è la stessa cosa e se non avete niente da fare potete guardare il televisore ma secondo me va sempre meglio un bel libro l'internet ai nostri dispositivi da il router che trasmette il wifi ai computer ai portatili o ai cellulari e se dobbiamo rinfrescare l'aria in casa quando fa caldo possiamo utilizzare l'aria condizionata va bene? allora ricordatevi bene questi elettrodomestici spero che il video vi sia piaciuto e presto ci rivedremo in un nuovo video ciao 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 un bacione